Siamo in I.M. con Kofi della cooperativa Contè e siamo qui per il progetto di I.M. che coinvolge i ragazzi volontari richiedenti asilo che saranno impiegati in alcuni lavori in giro per la città. Ecco Kofi, come stanno prendendo i ragazzi della vostra cooperativa questa giornata, questo progetto? Sì, è molto bene. La maggior parte dei ragazzi che ci siamo occupati hanno un piccolo problema. La maggior parte resta solo a casa, si mangia, si dorme, si diventa obsoleti. Ho visto la lentezza anche della burocrazia e per cui per i ragazzi significa per tutti loro, molte volte significa uno stato di stand by, di fermo, attendendo la documentazione, non dipende da loro. Molti aspettano stando a casa. Mangia, dorme, non fai niente, è così difficile per loro. Il fatto solo di aspettare, aggiungo io a Kofi, il fatto solo di aspettare li rende anche come indignità umana che si possono perdere e molti di loro soffrono questo, proprio come indignità di essere maschile, soprattutto per la loro cultura. L'uomo lavora e produce, per cui sicuramente è una cosa significativa e buona. Quanti ragazzi ci sono della vostra cooperativa qui oggi? 26. Sono provenienti da che paesi soprattutto? Alcuni di Ghana, Nigeria, Mali, Burkina Faso. E quindi avete parlato con loro, inizieranno tra una settimana circa, no? E sono tutti pronti, hanno fatto un corso di formazione. La settimana scorsa abbiamo avuto un incontro promosso dal sindaco, dalla giunta comunale, promosso dall'AIM e attuato dall'AIM sulla sicurezza. I ragazzi hanno partecipato e adesso continuiamo. Qual è il fine e la finalità di questo progetto? Just to add one small point. This project is going to help a lot of the boys who stay at home and do nothing and are influenced by other people on the street to go and sell drugs. Listen to me carefully. You are in Italy. Italy is helping you. Don't pay Italy back with evil by selling drugs on the street. No, don't sell drugs. Go and look for opportunity elsewhere. If not in Vicenza, you can go to Padova, Milan, Brescia, wherever and look for opportunity. Don't pay Italy back with selling drugs. No. Sicuramente, come dice il mio collega Coffi, questa è una grande opportunità e ha una grande finalità. Prima di tutto, quella che si diceva prima, dare un'opportunità di uscita dalla casa e dal far nulla, dal creare nulla e dall'essere anche nulla e dal diventare una nullità di fronte alla comunità. Il pericolo grande è quello della droga. Noi combattiamo con i nostri ragazzi perché la via è più facile, neanche sotterranea, è quella di vendere o comprare droga e su questo c'è tutto un giro che ruota, tutto un sistema che ruota di ingranaggio nella malavita. Altra cosa che aggiungo a quello che ha detto il mio collega è che credo sia molto importante che vi siano altre possibilità come queste, sia perché veramente i ragazzi vengono integrati nel territorio, perché comunque vi è una fatica ad accettare queste presenze. Ricordiamoci che questi sono uomini che scappano da terre colonizzate e colonizzate da noi e forse sul balcone, magari potrebbe essere che ci saremmo noi se fossero distribuite giustamente le ricchezze. Siamo in AIM nel giorno in cui si presenta il lavoro dei richiedenti asilo che hanno scelto volontariamente di aderire ai progetti di AIM. Oggi c'è stato il saluto del sindaco Achille Variati e anche qualche raccomandazione. Ho detto loro che si trovano in terra italiana, l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Apprezzavo molto che loro avessero voglia di dimostrare gratitudine verso il nostro paese che li accoglie in vista del loro sì o no della richiesta di asilo. Li ringraziavo per aver risposto positivamente mettendosi a disposizione per fare dei lavori socialmente utili. Grazie a tutti.